buongiorno e buona giornata e buona domenica a tutti voi cari amici sempre io nel cuore della lucia sto registrando e poi pubblicherò tra un paio d'ore sempre di oggi domenica 10 novembre perché sono davvero contento di parlare della dell'ennesima vittoria della vigor tra il calcio che ha vinto lo scontro diretto contro l'ugento e con questa vittoria che è la quarta vittoria di fila arriviamo a 20 punti in classifica che come sempre ripetiamo nel caso non ci fosse stata la penalizzazione di tre punti saremmo stati a 23 punti un droni sorprendente sorprendente trascinato dal suo attaccante di peso pc che anche in questa partita è andato a segno al minuto diciassettesimo dal primo tempo è da segnalare visto che diciamo non sono riuscito al minuto per il primo tempo a visionare la partita c'è stato anche una palla donna gallo sappiamo la tecnologia non c'è in eccellenza però chissà forse la partita poteva finire 2 a 0 vabbè comunque contenti anche soltanto per 1 a 0 adesso quindi però subito testo al prossimo impegno perché si sa il campionato è soprattutto in eccellenza dove non ci sono soste magari ad eccezione un po del natale e quant'altro quindi che dire continuate così ragazzi siamo sempre al vostro piango e forza e gioia per voi ciao a tutti grazie a tutti Grazie.